La verità spesso si nasconde dietro le righe e si palesa a chi riesce a leggervi. Le storie che sto per raccontarvi sono proprio un esempio di quanto appena detto. Sono storie che riguardano l'ufologia mondiale, ma anche che riguardano vicende umane. Ad alcuni di voi magari appariranno fantastiche, altri riusciranno appunto a leggere dietro le righe e magari a trovare qualche particolare indizio. Benvenuti nel mondo dei rivelatori. A tra poco. Chi sono i rivelatori? E quanta verità è possibile leggere dietro le loro storie? Si tratta molto spesso di ex militari, ex agenti dell'intelligence, persone che hanno lavorato al Pentagono. Tutti quanti hanno una particolare storia da raccontare. Tutti si sono trovati all'interno di misteriose vicende riguardanti l'ipotesi extraterrestre e ad un certo punto della loro vita hanno deciso di raccontarle. Questo fenomeno ha caratterizzato l'ufologia da molto tempo, soprattutto a partire dal 2000, periodo dal quale è iniziata quella che potrebbe definirsi una ufologia rivelatoria. Tutto ebbe inizio nell'estate del 1984, quando il medico Paul Bennewitz venne citato dal giornalista Tom Adams in un articolo apparso sulla rivista Stigmata, a proposito del problema della mutilazione di animali. Bennewitz era un perito elettronico che a partire dal 1979 iniziò ad intercettare, filmare e registrare tutta una catena di eventi e di informazioni che sembrava riguardassero molto da vicino la questione ufologica. Dai dati raccolti si convinse che esisteva un legame molto forte tra dulce e irrapimenti, concludendo che proprio in quel territorio doveva sorgere una base segreta. Le sue rivelazioni iniziarono ad essere diffuse nell'estate del 1984, in particolare una sua intercettazione riguardante il racconto di un militare che parlava di un sotterraneo top secret posto a circa un chilometro dalla riserva indiana di Gicarillas, ad ovest di Dulce. Con il passare del tempo ed in seguito ad alcune circostanze sospette, la figura di questo rivelatore perse di credibilità e ben presto cadde nell'oblio. Ben diversa invece la storia di William Milton Cooper. Durante il suo servizio nella Marina Militare, nel 1965, venne a conoscenza di molte strane storie riguardanti casi di avvistamenti, ma in particolare le sue rivelazioni iniziarono nel 1989. Cooper affermò che nel 1972, trovandosi ancora in servizio presso la Marina Militare, aveva avuto l'opportunità di visionare due importanti rapporti che rappresentavano la prova del contatto del governo USA con esseri extraterrestri. I due rapporti menzionati erano il progetto Grugge Blue Book e il rapporto Majority. Il primo conteneva ben 25 fotografie in bianco e nero che ritraevano la vita aliena. Il secondo, invece, non conteneva materiale fotografico, ma parlava delle interferenze aliene con il pianeta Terra e i suoi abitanti. In base a quanto affermava Cooper, subito dopo il crash di Roswell vennero ritrovati dei corpi senza vita di alieni del tipo Grigio, occultati dai militari nel 1954. Il governo americano riuscì finalmente a stabilire un contatto con la razza aliena dei Grigi, con i quali concluse un patto. Gli alieni non avrebbero interferito con i nostri affari e noi avremmo fatto altrettanto mantenendo segreta la loro presenza sul nostro pianeta. In cambio di questo tacito silenzio, gli alieni avrebbero fornito agli Stati Uniti la loro tecnologia. La merce di scambio richiesta sarebbero stati gli umani. Agli alieni, infatti, sarebbe stato concesso di effettuare periodicamente dei rapimenti al fine di portare avanti dei test chimici e biologici, oltre che genetici. Cooper fu anche uno dei primi a parlare di un governo mondiale, uno scenario oggi molto discusso e ben conosciuto. A riprendere lo scenario del famoso patto scellerato tra umani e alieni fu John Olsen Lear, ufologo ed ex pilota. Profondamente colpito da un avvistamento che vide come protagonista proprio il padre, Lear sostenne da sempre l'origine extraterrestre degli UFO e si prodigò nel divulgare numerose informazioni. Il suo ingresso nel mondo dei rivelatori inizia con l'elaborazione di un documento di circa una diecina di pagine che venne inviato a tutti i parlamentari americani. Nella relazione si faceva riferimento ad una guerra in atto tra alieni e militari. Il patto scellerato, a differenza delle dichiarazioni di Bennewitz, non riguardava soltanto l'America ma anche la Russia. L'attività di Lear continua fino agli inizi degli anni 90 ed in questo stesso periodo entra in scena un altro personaggio, Robert Bob Lazar, personaggio intimamente legato alla famosa Area 51. La SAR, durante un'intervista rilasciata il 25 luglio del 1990, sostenne di aver lavorato a Dreamland dal dicembre 1988 all'aprile 1989 e molto più precisamente di aver operato nell'area S4. Il suo compito era quello di esaminare i dischi volanti e tentare di replicarne nella tecnologia. Subito dopo questa intervista, la SAR sfuggì miracolosamente ad un attentato. Affermò inoltre di aver trovato durante i suoi studi sugli UFO un nuovo elemento, l'unum pentium. Inserito nella tabella periodica con il numero atomico 115, questo elemento venne ritrovato all'interno del reattore antimateria contenuto in un disco volante. Secondo la SAR, l'elemento 115 serviva agli alieni per viaggiare nello spazio. Altro personaggio di particolare rilievo è Clifford Stone, il quale produsse moltissimo materiale appartenente alla CIA, all'FBI e al Dipartimento della Difesa. Ancora un personaggio da ricordare, considerato uno tra i più attendibili rivelatori, è Robert Orell Dean, il quale parlò moltissimo del caso Roswell e della connessione tra la Nato e la questione UFO. Arriviamo così agli ultimi due rivelatori, Michael Wolff e il colonnello Philip Corso. La lunga permanenza di Wolff presso l'area 51 e la conseguente esposizione a molti agenti chimici lo portò alla morte il 16 settembre del 2000. Era stato consulente scientifico del Presidente degli Stati Uniti, colonnello dell'Air Force, medico, chirurgo e pilota, ma aveva avuto anche numerose implicazioni con il controspionaggio al servizio della CIA e dell'NSA. Le sue rivelazioni parlano della partecipazione ad alcune di quelle che vengono oggi conosciute come autopsie aliene, oltre a dei particolari riferimenti al famoso progetto ARP. Infine una particolare rivelazione su Roswell. I velivoli che si schiantarono a Roswell furono due, due velivoli che si scontrarono tra loro durante una tempesta elettrica. Uno dei velivoli conteneva grigi, l'altro esseri denominati orange. Questi ultimi provenivano dal sistema Andromeda e furono quelli sui quali venne effettuata l'autopsia. Arriviamo così al colonnello Corso e alle sue rivelazioni su Roswell, sull'utilizzo di tecnologia aliena e sull'impatto dell'evidenza aliena sulla politica militare americana. Le sue rivelazioni sono contenute nel libro The Day After Roswell, pubblicato in Italia nel 1997, un volume che non ebbe certo vita facile, soprattutto per via delle pressioni governative tese a screditare la figura dell'autore. Da segnalare, sempre in tema di letture su Corso, il libro L'alba di una nuova era, a cura di Maurizio Baiata, edito in Italia dalla casa editrice Pendragon. Questi alcuni dei punti salienti delle rivelazioni fatte dal colonnello Corso. Cinque extraterrestri nello scenario relativo al crash Roswell. Due di loro erano ancora vivi. Uno tentò di fuggire, mentre l'altro morì proprio quando stava per essere messo su un camion militare. Tutto il materiale raccolto nel sito, compresi i corpi degli alieni, venne inviato alla base militare di Wright-Patterson. Lo stesso Corso esaminò personalmente la spedizione prima della partenza. I corpi dei due alieni erano conservati in una sorta di liquido azzurro. Siamo così giunti alla fine di questo episodio. Verità, fantasie, mistificazione? A voi trarre le conclusioni e, se volete, se vi fa piacere, riportarle nei vostri commenti. Io vi saluto, vi saluta il giornale dei misteri. Vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare i vostri like se vi è piaciuto questo episodio e, ovviamente, i vostri commenti. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 14.30, sempre ovviamente su frontiere proibite per partire per un nuovo viaggio oltre l'ignoto. Grazie per essere stati con me. Ciao. Grazie a tutti.